ATTENZIONE STA PER COMINCIARE K-PRODUCTION Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi è un giorno particolare ragazzi perché vedremo assieme il pacco che mi è appena arrivato qui da Amazon Che contiene le prime due copie del mio libro Adesso vediamo un po' come appare tenete conto che è un libro piccolino E adesso lo tiro fuori Attenzione a questi doppi sensi Ed eccolo qui guardate un po' che bello Un attimo che... Eccolo qua ragazzi Le prime due copie Tra l'altro noto che questa è più scura di questa Cosa stranissima Si vede più scura rispetto a questa Vabbè sarà forse per la stampa è venuto in maniera strana E questo è il mio primo libro ragazzi Il mio primo romanzo vedete un po' Volpe Io non so se riesco a farvi vedere granché Eccolo qui Ecco c'è un po' di casino Eccolo qui Questo è il romanzo E' piccolino Ed è il mio primo libro Ed è il mio primo libro Questo voi lo trovate già su Amazon In vendita E ben presto anche nelle libri di online Di Feltrinelli, Mondadori e robe varie Il libro è formato da Vediamo un po' Come l'hanno impaginato Da 66 pagine Sono 66 pagine E vi assicuro che però saranno 66 pagine Molto intense Perché questo libro tratta L'argomento della depressione Ma in maniera molto d'azione Perché ci sono molti combattimenti Non c'è solamente un protagonista Ma puoi vedere i ragazzi E' parecchio interessante E vi ricordo che il prezzo E' di 8,90 In realtà pagando poi le spese di petizione Vi viene 10 Però voi ve lo fate ordinare Da una libreria In maniera tale Che non dovrebbero farvelo pagare Se voi ordinate più copie Per magari qualche vostro amico Ancora meglio Cosi sono più incentivati Ad ordinare E non vi fanno pagare Le spese di spedizione Bene ragazzi Il video è già terminato qui Perché non c'è molto da dire Perché non vi voglio rovinare La sorpresa nel leggerlo E ci rivediamo Ad un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti